allora nella ricerca questo già lo sanno che si può cercare una persona ho cercato a un marco vado giù lo trovo e poi faccio ok e sono pronti a inviare un messaggio a marco ma il messaggio me lo posso preparare ho fatto in modo che me lo posso preparare da tutte le parti qua cancelliamo questo qua scriviamo l'altro ha dedicato a mimmo scrivo questa la necca storia ma è fuori io questo messaggio lo posso salvare selezionare e copiare i porti a whatsapp la proposta aspetto le sigarie che lo incollo la faccia incollare c'è il tastino in via qua poter uscire marco che io ci l'ho mandato anna di meglio ma lo cancelliamoci andiamo qua più funzioni dovrebbe starci cancello ok così questo non è caso di mercolio allora invece cerchiamo marco posso andare giù così scrivere marco cercare mandare messaggi a me ok ok sta selezionare su marco si e vado sino via e copia incolla e invia questa non è caso ma è fuori io dedicata a mimmo questa non è caso io ma è fuori io fuori non lo dice male ok 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 ok